Un appello alla nuova classe dirigente della Regione, che dovrà scegliere l'assessore della Sanità, perché l'azione politica sia sensibile alle particolarità del territorio, dando la massima priorità alle vertenze in atto. A chiedere udienza è la CISL Funzione Pubblica di Sassari, che sottolinea l'urgenza di risolvere la preoccupante situazione del Policlinico e dei 200 lavoratori in attesa di una risposta. Il sindacato richiama le responsabilità della Regione sulla gara di vendita, che, si legge in un comunicato, Auspicchiamo possa consentire a questa importante realtà sanitaria del Nord Sardegna una sorta di rinascita, restituendo alla città una ospedalità privata di eccellenza e con essa una significativa platea di professionalità. Appelli alla nuova classe politica anche per il sistema in atto degli appalti ospedalieri. Anche qui non sono mancati tagli e dimensionamenti dei volumi di attività, che hanno obbligato le organizzazioni sindacali, in alternativa ai licenziamenti, a ripiegare con accordi aziendali per ridurre drasticamente le ore contrattuali a numerose lavoratrici e lavoratori delle cooperative sociali. Tutto questo, va detto, ha inevitabilmente generato uno scadimento della qualità dell'offerta, in termini di assistenza e con una certa gravità in termini di igiene e pulizie degli ambienti ospedalieri. Questi e altri problemi, si legge, sono legati alla visione che mette in primo piano i grandi ospedali, marginalizzando le realtà territoriali. Bisogna ripartire dal basso, conclude la CISL, per combattere la diffusa precarizzazione e la chiusura indiscriminata dei presidi territoriali. Il sindacato si propone come partecipe del dibattito per un significativo miglioramento della riforma in atto nel sistema sanitario regionale.